Siamo ancora una volta qui in quest'area di Borgo Nuovo, denominata BN, in piazza della Fosto Pirandello, dove al fianco di una struttura comunale insiste un'area verde. Ancora una volta sollecitiamo l'amministrazione affinché intervenga su quanto è di sua competenza. I cittadini in maniera virtuosa stanno rappresentando davvero un modello iper positivo di chi si sbraccia e si mette in campo a fare direttamente i lavori, a pulire, a fare tutto ciò che non è neppure di loro competenza. Ma questi cittadini devono essere ascoltati nel loro grido d'allarme. Bisogna dare una risposta istituzionale. È necessario intervenire affinché i loro sacrifici, il loro impegno non resti vano, non resti un caso isolato, ma diventi sì contagioso, perché questo impegno, questa perseveranza, questa constanza, questa buona volontà, questo segno di civiltà deve diventare contagioso. E quindi chiediamo a gran voce all'istituzione di fare degli interventi di natura straordinaria, in modo particolare in quest'area che insiste attiva appunto a un centro comunale, affinché venga pulita, venga ripristinato il decoro e i cittadini in primis si impegneranno a mantenerlo. Siamo stati abbandonati. Per giunta i bambini che spesso e volentieri cadono e trovano vetro, seringhe, tutto. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, però non abbiamo nessun mezzo per pulire completamente questo giardino. Sono una cittadina abitante dello stesso quartiere del signor Di Mariano, da anni opero nel settore del sociale. Mi trovo qui perché sposo il progetto dell'agente del mio quartiere, che si vuole riscattare, vuole avere un riscatto sociale. In che modo? Presentando all'amministrazione comunale appunto la volontà di poter modificare e cambiare, vivere meglio questo quartiere. L'agente del quartiere si è operata a sue spese per eseguire anche lavori di manutenzione all'interno di questa struttura che da anni è stata abbandonata al degrado più assoluto. Ora, Borgo Nuovo è un quartiere grande che non ha centri socio-aggregativi, quindi l'idea di queste persone è quella di far rinascere e di riqualificare il posto in cui vivono.